...quale sarà il riscontro di questo duello ravvicinato. E naturalmente è inutile sottolinearlo, anche Gabriele Sabatini inalbera con orgoglio l'emblema del film Italia storico. E' l'ultimo arrivato, ma non certo meno veloce, Simone Di Fuglio, allo start con la sua Luchini Sport Nazionale, ma in questo caso 3.000 di cilindrata, quindi certamente non in gara con le letture che abbiamo visto pochi attimi fa, allo start Simone Di Fuglio con la sua bella ed elegante Luchini Sport Nazionale, Alfa Romeo 3.000. Partenza per il numero 5, Simone Di Fuglio. Mentre il record della salita è detenuto da papà Giuliano, che con 4.52 è ancora il detentore di questa, salita è detentore del record di questa Luchini Sport Nazionale. Partenza ora per il giovane Stefano Di Fuglio. e il giovane Stefano Di Fuglio èΣ con il numero 2, Piero Lottini. E per ora il terzo occupamento è appannaggio di Marco Naldini che con la sua osella tema economico E per ora il terzo occupamento è appannaggio di Marco Naldini